È la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell'anno. Stiamo parlando della quinta edizione di Wine Siena, presentata nella sede della Presidenza regionale in programma dal 1 al 3 febbraio nel complesso di Santa Maria della Scala, l'antico ospedale della Via Francigena. La novità più importante è quella che quest'anno per la prima volta saremo nel Palazzo Santa Maria della Scala per tre giornate intero, quindi anche una terza giornata che si è aggiunta. All'interno di questo palazzo troveranno spazio 200 aziende e quindi ci sarà la possibilità di assaggiare più di 700 vini, oltre ovviamente anche dei prodotti tipici, ci sono una trentina di aziende proprio non solo territoriali ma anche di tutta l'Italia. E poi show cooking, masterclass, seminari e convegni. La settimana successiva, il 7-8 di febbraio, abbiamo la decima edizione del Buy Wine qui a Firenze, anche qua. Non abbiamo lasciato a piedi nessuno, quest'anno era un impegno che avevo preso, oltre 260 aziende presenti, oltre 260 buyer a livello mondiale, giornalisti. La settimana successiva sarà invece la volta delle anteprime con visite alle aziende e ai territori.